gelateria del ponte yogurteria creperia budieria il top del gelato ecco i veri maestri del gelato artigianale con tanti gusti gli originali pistacchione pale di mozart sapore di puglia e il gelato del ponte nelle stagioni più calde ricco assortimento di sorbetti e la frutta fresca yogurteria soddisfiamo i vostri gusti con specialità squisite dalla frutta fresca alle confetture e per i più golosi crema al cioccolato e ai suoi derivati e ancora budini che solo a vederli già viene l'acquolina in bocca tra i tanti quelli deliziose alla frutta alla marmellata e al cioccolato vi prendiamo per la gola con le nostre crepes tante varietà per soddisfare i palati più esigenti gelateria del ponte una tradizione ventennale al servizio del cliente qualità e convenienza sono le nostre prerogative 4 sedi a Taranto via Daquino 110 via Matteotti 1 viale Trentino 35b via Liguria 71a via Liguria via Liguria via Liguria